Bella raga, porca iglia, sto tornando a merda con questo super pezzo nel cielo, cento trezza, Ganondorf Zelda, si vola, Iliacagna no vabbè oddio i molisani e adesso verso i confini della Basilicata oddio che cazzo succede a Roma mi annoio, adesso vi farò cadere no cazzo Zelda, cancella le mie browserisserie non mi stanno minacciando Zelda, io sono la minaccia un tizio a caso va nella foresta ed estrae la spada che esorcizza il male no, sono io quella che la estrae c'ho il cazzo durissimo cavallo oddio Evangelion, non ci credo, è il trono del muori Zedda, il vero pericolo non è Ganondorf ma è Link, col suo enorme lungo diritto affilato e duro in ogni caso, fammelo un pochino, c'è se ne merda ma io ho quindici anni mi disorgio Virule è diventato il mio parco giochi io sono il messia ok io stai con calma, devo prendere salto al momento, aia niente potrà fermarti, abbastarda ma non è male che ho questa brucia, brucia, brucia vai sali con calma, vai, si, così cazzo sto giocando, cazzo oddio, il mostro è una forna Link come farai a lavare i piatti senza di me adesso? si venite a me ascolta bene Link questo potere me l'ha insegnato un famosissimo calciatore potere del Sium cazzo 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 a chi si uccide per prima? ci sto sping andiamo miei setto post forza soldato emiliano combatterò per la mia casa inondata ora miei truppi andiamo a fare il cazzo drago del Sium non ti temo che puzza di culo link quando è che torni a cazzo? a quella nuvola sembra un cazzo non è che torni a cazzo